Allora Niccolò Più sembrava tutto in discesa dopo il gol dopo 15 secondi, poi c'è stata un po' di difficoltà nel trovare continuità di giocata, velocità di esecuzione come si è detto anche col mister, c'è ancora tanto lavoro da fare, tanto da crescere e confidenza da trovare. Sì, è stata la prima uscita ufficiale, a parer mio non siamo andati per niente male, anzi abbiamo fatto delle buone cose, forse ci è mancato giusto un pochino di concretezza davanti, risultato per il mio bugiardo, c'è stato anche un rigore non dato subito dopo il mio gol, quindi secondo me mi mette la partita sul 2-0 e poi va in discesa. Però lì secondo me dovremmo essere bravi noi a cercare di portare il risultato alla nostra parte e cambiare radicalmente la partita. Come ti trovi con il compagno di reparto rignanese e poi ti chiedo la nuova soluzione con Doci trequartista dal campo, come la vedete, come vi trovate? Bene, bene, siamo ragazzi tutti e tre che non hanno mai giocato insieme, quest'anno è la prima esperienza che facciamo insieme, soprattutto tutti e tre davanti. Dobbiamo allenarci, all'inizio, ho detto prima, la nostra prima partita ufficiale, se ci alleniamo bene, ascoltiamo un po' il mister, lavoriamo un po' davanti, ci possiamo andare a tanta soddisfazione, tutti e tre, non in particolare, tutti e tre possiamo andare bene. Giocare subito domenica un vantaggio anche considerando la voglia, immagino, di rivalsa dopo questa sera oppure considerando i carichi dopo il periodo di preparazione un svantaggio? No, siamo carichi, te l'ho detto, il risultato a parer mio non doveva essere questo qua, purtroppo è successo, domenica ci dobbiamo rifare, a tutti i costi, non c'è altra soluzione. Grazie. Grazie. Grazie.